Se soffri di mali testa oggi ti insegno un trucco facile e veloce per fartelo passare. Tutto ciò di cui hai bisogno infatti è l'olio essenziale di menta, che è un rimedio utilissimo. Infatti basta metterne qualche goccia sul dito e sparmarlo delicatamente sulle tempie. Questo non solo ci farà passare mali testa, ma ci donerà anche quella freschezza andandoci quindi soglievo. Prima di provare qualunque olio essenziale però mi raccomando di provarlo su una piccola porzione di pelle per controllare che non ci siano allergie. Inoltre è sempre bene utilizzare un vettore, ossia un olio o una zolletta di zucchero se lo si vuole assumere internamente perché gli oli essenziali sono dei composti molto potenti e quindi è bene diluirli in questo modo. E se questo video ti è stato utile mi raccomando metti un mi piace e condividerlo con le persone che soffrono di mal di testa.